Ai fornelli per un centinaio di commensali della Caritas di Piacenza con l'obiettivo di regalare un Natale speciale anche alle persone in difficoltà. Così oggi lo chef stellato Luigi Taglienti, titolare di un ristorante in città, ha preparato insieme al suo staff uno sfizioso menù agli ospiti della mensa in via San Vincenzo. Lo facciamo super volentieri, cerchiamo sempre di metterci il nostro tocco in cucina e condividerlo con le persone, che è la cosa più bella. Il menù abbiamo fatto, quest'anno abbiamo fatto il nostro panettone con lievitato artigianale che facciamo noi, lo serviamo con questa crema ricca al mascarpone e poi abbiamo fatto una polenta con quattro tipologie di ragù diverso. Con la carne, il pece, una fonduta di formaggi, essere vicini alla città, comunque alle persone che hanno bisogno ogni giorno.